Denuncia a piede libero per un 45enne di battipaglia. L'uomo, stando a quanto accertato dai carabinieri, vendeva orologi online a prezzi molto bassi. Una volta raggiunto l'accordo con l'acquirente, però, non provvedeva all'invio della merce. Il meccanismo è stato svelato da un 22enne di Reggio Emilia, che dopo non aver ricevuto l'orologio acquistato per 100 euro, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che sono riusciti a rintracciare il truffatore. Per lui, una denuncia a piede libero per truffa.